Sabato prossimo alle 16 presso il centro congressi Marconi di Alcamo si terrà un incontro durante il quale verranno trattate importanti tematiche riguardanti le varie iniziative di carattere economiche promosse dal Movimento 5 Stelle Sicilia come l'albergo diffuso, il microcredito e polmoni urbani. In particolare quest'ultimo è un concorso di idee per promuovere la creatività dei giovani siciliani e nuovi modelli di sviluppo urbano, progetto che trova copertura finanziaria tramite la restituzione delle eccedenze degli stipendi dei 14 deputati che compongono il gruppo parlamentare pentastellato a Lars. Le prime tre idee risultanti vincitrici otterranno un contributo a fondo perduto di 120 mila euro lordi ciascuno. All'incontro interverranno i deputati a Lars, Valentina Palmeri, Claudia Larocca, Sergio Tancredi e Giampiero Trizzino. Parliamo di rifiuti, l'amministrazione comunale di Mazzara del Vallo pronta ad esercitare il potere sostitutivo per affrontare l'emergenza igienico-sanitaria ma si spera ancora nella riapertura della discarica di Campobello di Mazzara. In considerazione della situazione igienico-sanitaria venutasi a creare a seguito del rallentamento della raccolta dei rifiuti da parte di Belice Ambiente, pur rendendoci conto dei problemi che derivano dalla chiusura della discarica di Campobello di Mazzara della quale ospitiamo l'immediata riapertura, ribadiamo che se il tutto non si risolverà nelle prossime ore eserciteremo il potere sostitutivo ai sensi degli articoli 50 e 54 del testo unico degli enti locali e ai sensi dell'articolo 191 del testo unico ambientale. Lo ha dichiarato senza mezzi termini il sindaco di Mazzara del Vallo, Nicola Cristaldi. Ieri la riunione in prefettura con i rappresentanti dei comuni soci del lato Belice e la Belice Ambiente non aveva portato a niente di decisivo, solo la ferma richiesta dei sindaci dell'autorevole intervento dello Stato attraverso il prefetto, affinché il presidente della regione consenta la riapertura della discarica di Campobello e risolvere così l'emergenza. Il nostro comune, ribadisce l'assessore al bilancio Vito Billardello, nulla deve a Belice Ambiente per quanto concerne l'anno 2014, avendo pagato, a differenza di tutti gli altri comuni, fino all'ultimo centesimo tutte le fatture relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno pregresso. Relativamente al 2015, prosegue Billardello, il nostro comune è disponibile a far fronte ai pagamenti, alla sola condizione che la situazione della raccolta e dello smaltimento torni alla normalità, ma non intendiamo pagare un solo euro se la situazione della presenza dei rifiuti rimarrà la stessa. Nel caso aspicato di una soluzione che ripristini la normale raccolta dei rifiuti, consentendo alla città di essere pulita fin dalle prime luci dell'alba, allora faremo fronte ai pagamenti per l'anno 2015, decurtando in ogni caso le somme per il mancato parziale servizio reso in queste settimane, conclude l'assessore al bilancio che i nostri tecnici hanno stimato in 150.000 euro. La nostra amministrazione, spiega il vice sindaco Silvano Bonanno, è concentrata da un lato sulla risoluzione dell'emergenza, ma ha già approntato ogni atto utile per il piano di intervento previsto, quando finalmente sarà consentito il passaggio delle competenze dal lato belice alla SRR, la società di regolamentazione dei rifiuti. Bonanno tiene anche a fare chiarezza su una questione, in particolare nessun operatore sarà licenziato, anzi sottolinea attualmente operano nel territorio 52 persone nel nuovo piano di intervento, nonostante risparmi per oltre 500.000 euro annui, conclude il vice sindaco, è previsto un incremento di servizi e conseguentemente un incremento di personale di almeno 20 unità. Dopo più di 50 anni, oggi la solennità di San Giuseppe a Castellammare del Golfo torna ad essere celebrata il 19 marzo, giorno liturgicamente tradizionalmente dedicato alla figura del santo. La festa, originariamente celebrata in questa data, fin dalla fondazione della parrocchia di San Giuseppe nel 1935, era stata spostata alla fine degli anni 50 dello scorso secolo dall'allora parroco Don Mariano Basilico al primo maggio. Quest'anno, dopo una serena riflessione fatta dal parroco Don Fabiano Castiglione nel corso del tempo con la comunità parrocchiale, si è deciso di riportare alla sua collocazione originaria la festa del titolare della parrocchia, inserendola all'interno del cammino quaresimale, sottolineando soprattutto la sobrietà e l'aspetto provvidenziale e caritativo che sono virtù specifiche della devozione a San Giuseppe. Oggi, dopo la messa presieduta dal vescovo Fragnelli, la processione della statua del santo per le vie cittadine, per l'occasione abbellite da ricche luminarie, unica deroga al clima sobrio e dimesso della festa, ma arricchite anche da altari votivi con i pani e i simboli di San Giuseppe allestiti nelle case private. Il giorno del primo maggio, che fino all'anno scorso era dedicato alla festa parrocchiale, avrà luogo invece la solenne liturgia della dedicazione della chiesa di San Giuseppe, mai precedentemente effettuata, legando così per il futuro le due date sotto il patrocinio di San Giuseppe. Ed è tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito e buon proseguimento. Grazie a tutti!